In enigmistica amputazione ingannabile, governabili così, si procede sopra il lenzuolo che sporge all'obitorio in ordine simbolico che dovrebbe allargare l'identità senza un euro di allegria. Non si può non sentire qui tra pali di telegrafo il cielo in corso d'opera sghignazzare sopra noi, però sulla sponda opposta allora saltare il guado del futuro, produrre nuovo sapere o incenerire di passato.